Probabilmente pensava di poter agire indisturbato mettendo a segno un colpo in pieno giorno in un'auto parcheggiata poco distante dalla sua abitazione, ma ha dovuto fare i conti con due coraggiose ragazzine che hanno dato l'allarme e lo hanno fatto arrestare. È successo ieri pomeriggio in pieno centro storico ad Arezzo. Il ladro, un 32enne di Sansepolcro con numerosi precedenti che stava scontando i domiciliari a casa della compagna, aveva infatti notato che all'interno di una Mercedes parcheggiata poco distante da lui c'era un portafoglio. Non ha così esitato nemmeno un istante, è uscito di casa, o per meglio dire è evaso, è aperto lo sportello dell'automobile, rubato il borsello e in un lampo è tornato all'interno della sua abitazione. Non si era però accorto che dentro la macchina c'erano due ragazzine che stavano aspettando il nonno. Le giovanissime, sedute sui sedili posteriori, non si sono fatte intimorire, hanno immediatamente chiesto aiuto, iniziando ad urlare. A quel punto il ladro che era stato intravisto rientrare in casa, forse richiamato dal nonno, è tornato sui suoi passi per riconsegnare il borsello e implorare il nonno di non chiamare le forze dell'ordine. Ma la chiamata è comunque scattata sul posto e accorsa una volante della polizia di Stato che ha arrestato l'uomo per evasione e furto. Il 32enne adesso si trova nella Camera di Sicurezza della Questura di Arezzo, in attesa di essere giudicato domani con rito direttissimo.